E' la nuova rotta dei migranti che a piccoli gruppi sbarcano lungo la fascia costiera della provincia di Agrigento. Se prima il primo approdo era Lampedusa o Linosa, ora le organizzazioni criminali che gestiscono il traffico di esseri umani fanno arrivare gli immigrati divisi in piccoli gruppi direttamente sulle spiagge di Licata, Palma di Montechiaro, Sciacca, Siculiana e Ribera. Alle prime luci dell'alba l'ennesimo sbarco. Un barcone con 43 persone a bordo tra cui alcuni ragazzi è stato localizzato e soccorso a pochi migli a largo di Sciacca da un pattugliatore della Guardia di Finanza. I migranti sono stati trasbordati sul mezzo navale militare mentre l'imparcazione è stata trainata dalla motogretta fino alla banchina del porto di Porto Empedocle. Tutti uomini e probabilmente provenienti dalla Tunisia, i migranti sono stati fatti salire sopra un pullman e trasportati prima nella struttura gestita dalla protezione civile adecente al porto empedoclino, attualmente inagibile, poi nella caserma della Polizia di Stato in via Francesco Crisfi per l'identificazione. Successivamente sempre con il pullman è trasferito nel centro di prima accoglienza delicata. Durante le prime operazioni dal piazzale della struttura di accoglienza del porto di Porto Empedocle, un nordafricano ha eluso la vigilanza delle forze dell'ordine riuscente a fuggire. In seguito dalla polizia, per alcuni minuti il ragazzo è riuscito a fare perdere le tracce. È stato ritrovato poco dopo nascosto tra la sterpaia e un muro in un terreno vicino ad alcune palazzine. Sulla gestione dell'immigrazione clandestina abbiamo sentito il capo del Dipartimento della Protezione Civile, Maurizio Costa. Noi stiamo collaborando con i nostri volontari, con le istituzioni che stanno gestendo questo nuovo avvio della stagione purtroppo drammatica degli sbarchi. I sbarchi recenti a Sciacca sono stati brillantemente contrastati dalle forze dell'ordine, coadivati dall'amministrazione locale e dei volontari che hanno collaborato. Mi auguro che il governo trovi le misure e le normative idonee per rimettere quantomeno tutte le strutture in possibilità di operare in maniera sinergica per contrastare e dare sollievo anche a questi migranti che arrivano nel nostro territorio.